L'assessore Mariella Lovello e la responsabile IRSAP, Maria Grazia Brandara, accolgono ad agrigento l'imprenditore indiano Panciavactra. Tanti i progetti di investimenti, le interviste al videogiornale Irene Milisenda. I mercati esteri interessati sempre più ad investire nella terra di Sicilia. E' quello che sta succedendo in particolare nella zona tra Milazzo e Messina, dove un imprenditore indiano, Maeshi Panciavactra, insieme alla sua holding, ha intenzione di costruire un aeroporto nell'area industriale Piano del Mela. E' un'infrastruttura che non intende porsi come il terzo aeroporto siciliano, in concorrenza con gli altri due, Palermo e Catania. Ma sarà un aeroporto come punto di riferimento e di sviluppo dell'attività aeree, marittima e ferroviare, integrate nel sistema di trasporto internazionale. E' un investimento da un miliardo di euro, che vede l'approvazione del presidente della regione Crogetta, che considera fortemente positiva l'idea di investire nella zona del Messinese, perché è nella posizione ideale per poter essere una stazione di collegamento tra nord e sud Europa, tra occidente e oriente. Sono rimasto affascinato dal porto di Milazzo e dall'area industriale di Messina, che è anche una grande città non lontana dalla penisola italiana. L'importanza di Messina sta nello stretto che collega la Sicilia alla Calabria, che è anche un'importante rotta di navi cargo dirette ai porti più importanti del nostro paese e di tutti gli altri che si affacciano sul Mediterraneo. C'è uno snodo autostradale di grande portata e una linea ferroviaria non molto trafficata. Agrigento è un altro importante punto di forza, l'agricoltura, le imprese, le arange. Gode di una luce invidiabile e sarebbe una terra per un ottimo investimento, che porti l'energia rinnovabile sugli altopiani assolati e che possa offrire lavoro in questo campo a migliaia di persone. Ma l'imprenditore indiano è interessato anche ad investire nella zona di Agrigento e accompagnato da Mariella Lobello, vicepresidente della Regione, e dal commissario straordinario dell'IRSAP Sicilia, Maria Grazia Brandara, ha visitato prima la Valle dei Tempi di Agrigento e poi a conclusione del giro turistico ha fatto tappa nell'area industriale agrigentina nella sede degli uffici IRSAP di Agrigento. Qui l'imprenditore indiano ha incontrato alcuni imprenditori che gli hanno presentato i prodotti locali, apprezzando soprattutto nel settore agroalimentare le arance di Ribera. L'ospite si è manifestato interessato e disponibile a fare investimenti anche nel settore delle energie rinnovabili, in quella che trova una terra bellissima. Sicuramente è anche un'occasione in più, un'occasione per guardare all'Asia, un'occasione per guardare all'Europa del Nord, all'Africa, così come anche all'America. Ciò che il gruppo Panciavactra ha registrato è che la naturale posizione della Sicilia, quasi al centro del mondo, 4.500 chilometri proprio dal suo stato, da Nuova Delhi, e 400.500 chilometri proprio da New York. Quindi siamo proprio al centro, attraverso il canale di Suez, si vuole sviluppare utilizzando la Sicilia come piattaforma ed è per questo che pensano di realizzare proprio in Sicilia quell'aeroporto che dovrebbe offrire opportunità. Intanto la scelta del luogo è anche quella un'opportunità perché proprio in quel luogo, nella Valle del Mela, ci sono le altre precondizioni. Tre precondizioni che significano il porto, che è quello di Milazzo, che significano l'autostrada e che significano la ferrovia. Ecco perché hanno scelto quel luogo lì. Però la Sicilia non è semplicemente Messina e pensiamo di offrire, a partire dalle aree industriali della nostra regione, che non dobbiamo dimenticare sono 33 agglomerati urbani, le ex aree Asi, stiamo offrendo un'occasione in più e siamo qui ad Agrigento proprio per questo. Representa veramente un volano per tutta quella zona, ma per la Sicilia intera, considerato che l'imprenditore intiano vuole creare l'IUNAB che serva anche da snodo per l'importazione e l'esportazione delle merci. La tappa di Agrigento nasce quasi per caso, quasi per caso però spiego bene perché. Perché in una delle battute che ho fatto il 2 di gennaio parlando ho detto guardi sicuramente la Sicilia è tutta bella, però ognuno esalta quella che è la propria terra. Io la inviterei a fare una visita ad Agrigento perché riteniamo che meriti davvero intanto di essere visitata. Certo c'era sicuramente un mio retropensiero che era quello di farlo innamorare un pochino di questa nostra provincia e chissà, considerato che lui è un grande amatore delle arance per esempio, farlo incontrare con i nostri produttori, ma non solo delle arance perché lui vuole investire realmente diverse risorse nella nostra isola, ma diceva stamattina che potrebbe avere degli interessi particolari proprio su Agrigento. Ma su questo né mi voglio fare illusioni, né, e creo illusioni, chi mi conosce lo sa, a me piace parlare quanto le cose sono concretizzate. Grazie.